La giornata della memoria, a Maresca, si celebra anche Germano Facelli, staffa, ultimo partigiano della Brigata Bozzi, nonché pittore e scultore. Siamo qui col figlio Sergio. Certo che è noto come partigiano, è noto come artista, però un artista di vita, un uomo che ha partecipato attivamente durante la sua vita, ovunque si è trovato alla vita sociale. Il filo conduttore della sua esistenza è sempre stata la solidarietà, la vicinanza, l'aiuto ai più deboli, l'esprimere quello che aveva da dire senza mai nascondersi e il rispettare gli altri. Sempre con umiltà e silenzio. Sì, a volte le casualità della storia sembrano che non siano messe lì per caso, nel senso che purtroppo le esecue del Maestro Facelli, che è stato un noto partigiano, cadono in concomitanza con la giornata della memoria. Quindi due eventi fortemente correlati l'uno con l'altro e sicuramente un momento di tristezza e di cordoglio all'indirizzo di uno degli ultimi partigiani viventi che ci lascia, ma che ci lascia anche grandi testimonianze in termini di arte, di cultura, di storia e di fortissimo impegno civile all'indirizzo di questa comunità che ha sempre curato, facendogli anche spesso dono di una molteplicità delle sue opere che i cittadini e eventualmente i turisti possono ammirare percorrendo il nostro territorio. Questo uomo è arrivato fino a Monzuno, è arrivato a Monzuno con una bella scultura e un quadro dove noi l'abbiamo accettato e con il don Lorenzo l'abbiamo installato fra la chiesa e il cemitero e l'altro un quadro che è nella chiesa, nella parrocchia di Rioveggio.